presentare a tutti voi Valentina grazie dell'applauso, grazie infinita che con la sua voce emozionerà la nostra serata e aspettarà la Befana con noi un altro applauso per Valentina grazie, grazie infinita un momento di pausa adesso queste sono le premesse di cuore che io sono da oltre dieci anni che ho Valentina da piccolina fino arrivata ai suoi dodici anni e mezzo, tredici anni quattordici ah ecco visto che me ne levo uno io sempre anche loro, hai capito? ne aumentano uno di più che dirti Valentina? i giornali hanno scritto di te cose fantastiche sul tuo talento ma quello che ti distingue è la tua partecipazione alle feste nei nostri paesi feste di beneficenza feste di beneficenza ne elenco alcune Fossombrone, Tavernelle, Fano, Acqualagna Casa Argento e Chiama l'Africa e poi l'ultima ieri sera ad Acqualagna mi sembra ad Acqualagna ha fatto un'altra festa di beneficenza un applauso lo farei a Valentina per queste è una piccola bimba per me è una bimba una bimba piena di cuore e di amore poi non vi annoio più faccio solo la premessa con emozione anche il tuo talento è un dono di Dio auguriamo a te ai tuoi genitori un mondo di bene perché dietro a una grande ragazzina c'è due genitori splendidi e meravigliosi che io ho potuto constatare in questi anni grazie Valentina un applauso e aspettando la Befana in attesa che arrivi la Befana se arriva se arriva perché è un problema qui ho avuto appena la telefonata venti minuti fa dice che da da Urbania si sia un pochino liberata di tutte le cose che venga qui a Tavernella lo speriamo voi ci credete? e speriamo che porti anche delle cose belle non nel carbone perché c'è dei problemi e allora adesso per la dirizia di tutto dobbiamo tenere le luci accese ribadisco perché abbiamo abbiamo qui tv centro le luci accese devono rimanere perché abbiamo tv centro marche che sta riprendendo in questo momento forse qualcuno sarà accorto e qui il nostro operatore Adriano che sta riprendendo per fare dei cd perché fosse interessato a questo cd della Befana per un ricordo o per l'altro dovrà rivolgersi a De Lonte Adriano che è l'operatore o eventualmente magari a me quando lo vorrete e quando è perché ha ripreso la serata adesso passo grazie Adriano devo fare un altro grande saluto a Simone e a Lorenzo alla regia grazie perché senza questo aiuto non avremmo potuto fare la serata e tutte le persone che hanno dato una mano e un aiuto meraviglioso che poi ringrazierò quanto al momento adesso Valentina ci farà ascoltare ti aspetto di Alessandra Amoroso vai Valentina grazie grazie far finta far finta che non sia successo niente dieci minuti per averti ancora mi stringe non sai dire una parola ma forse in fondo è meglio non parlarne dimenticare un giorno e non parlarne di questo nuovo amore complicato così importante anche se appena nato poi mi sorridi mi piaci tanto come muovi la bocca poi mi confondi con la tua ruvida dolcezza appuntamento preso col destino mi avevi lì proprio vicino vicino in un secondo la rivoluzione e dopo un attimo era tutto chiaro ora c'è amore amore da non respirare amore che ti scappa di mano e non ci riesci a farlo andare piano e che mi fa sperare che tu sia su questo treno ma se non ci sei ti aspetto vorrei riuscire a chiudere la porta a cominciare a chiudere la porta di questo nostro amore assiderato che scava in fondo anche se appena nato poi ti nascondi ma solo poco così posso trovarti poi mi confondi con la tua stupida amarezza appuntamento preso col destino mi avevi lì proprio vicino vicino in un secondo la rivoluzione e dopo un attimo era tutto chiaro e c'è amore amore da non respirare amore che ti scappa di mano e non riesci a farlo andare piano e che mi fa sperare che tu sia su questo treno ma se non ci sei ti aspetto se non ci sei ti aspetto appuntamento appuntamento preso col destino mi avevi lì proprio vicino vicino in un secondo la rivoluzione e dopo un attimo era tutto chiaro e c'è amore amore da non respirare amore che ti scappa di mano e non si riesce a farlo andare piano e che mi fa sperare che tu sia su questo treno ma se non ci sei ti aspetto